Amica mia bella, dove te ne vai? Vuoi un passaggio? No grazie, ma venivo giusto da te. Ah sì, dimmi. Da quanti anni siamo amici? Eh, da molti anni. E gli amici si riconoscono nel bisogno? Sicuramente. E tu conosci Pasquale? Certo, lo conosco. E potresti chiedergli se mi presta 10.000 euro? Tu vuoi 10.000 euro da Pasquale? Sì. E vabbè, stasera lo vede e glielo dico. Certo, pure se gli devo dare un poco di interesse. E' ovvio, quello è il suo lavoro, mica fa opere di beneficenza. Non so, per esempio, un 10%. Eh, lui te ne dà 10 e tu gliene devi restituire 20.000. 20.000? Il 10% 20.000? Ma tu non la conosci la matematica? Eh, ma tu non conosci Pasquale.